bravo l'abbiamo pagata perchè noi dovevamo dare noi dovevamo dare vi dovete sentire questa cosa il primo anno ci diede i segni allora noi gli abbiamo sempre promesso che gli aveva bisogno una volta quando abbiamo incominciato quando ci stiamo a stare il fruttore attanasio grazie alla coltura dell'ente grazie al spettacolare la coltura attanasia e va avanti in piedi perchè devi scoprire in capo qua c'è un San Barsano però grazie non lo so se è un gruppo di San Barsano non lo so se è un gruppo di San Barsano il cavaliere è annunziato è domenico Viscardi abbiamo fatto per 20 anni gli campi sperimentati Viscardi ero parlato io ero più parlato ero il cavaliere non diceva ero più parlato ero poi quando siamo andati a Roma a Taron Bianca siamo andati con un direttore a coltura diretta Pasquale Carasso no Franco De Vigo il secondo momento con Pasquale Carasso era in Parenza ma comunque hanno pubblicato a tutti quanti però si dice una cosa dottore sono 50 anni da Costa Marzano la Costa Marzano costa costa, 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 fatica dottore dottore una cosa in mente in più dicevo che non ci stiamo ancora no no non ci stiamo ancora 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 a alto livello ma giustamente noi come contadini ci sono contadini da tanti anni e onorire Pinto forse qualcosa ne abbiamo parlato anche prima che era senatore all'onorire di Nicola di Nicola ricordato ah quella ho messo a parte pure la c'è parla di San Marzano ma comunque non ci siamo parlati ma i contadini i contadini e ancora tutti i bandi i contadini che dobbiamo militare che fanno per loro per me dobbiamo migliorare però si ci fanno si ci fanno ah la cosa capito? si può lo prenderlo e poi lo prenderlo e poi lo prenderlo ma noi come contadini ci correremo perché i migliori loro come i nostri lati non c'è andata a passare in più se noi facciamo la creatura è morta dottore dottore scusate non c'è andata a passare non c'è i temi e i partiti non c'è 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 se abbiamo fatto bene dobbiamo ancora fare di più e io su questo ci sono nel senso che se dobbiamo andare avanti bisogna dare più soddisfazione bisogna ricevere allora noi ci auguriamo che la ricerca ci aiuti a migliorare la quantità e la resa perché